8 e 40 minuti puntualissimi per riprendere il filo del discorso che ho iniziato qualche istante fa. Prima del notiziario ho cominciato ad introdurre un po' il tema della COP28, lamentandomi anche molto di quanto poco il tema fosse presente nelle prime pagine che vi ho letto in apertura di puntata. Ma noi invece ci vogliamo dedicare molto tempo, senz'altro oggi, ma poi chiaramente anche nei prossimi giorni, nella prossima settimana. La COP28 che comincia oggi e comincia nel segno di varie questioni, anche diverse polemiche che circondano proprio l'organizzazione. Ma andiamo con ordine, quando si parla di COP28, di andare all'interno dei dettagli, il nostro contatto privilegiato Italian Climate Network. Noi li contattiamo all'istante e diamo il benvenuto allora quest'oggi alla coordinatrice clima e advocacy di Italian Climate Network, appunto, Mari Rosa Iannelli. Ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno. Eccoci, sì, mi dicevi appunto fuori onda che chiaramente sono momenti un tantino, come dire, incasinati anche per voi, perché andate in parte proprio a seguire i lavori sul posto, molte interviste, molti interventi, state anche realizzando dei bollettini. Ne è appena uscito uno proprio per dare un po' una presentazione generale di questa COP ed è un po' in realtà quello che vado a chiedere a te. La COP28 inizia oggi, ci immaginiamo che oggi non ci sia granché di concreto che uscirà da questo summit, ma insomma, invece, quali sono i temi di partenza? Che cosa ci sarà, almeno teoricamente, al centro di questa edizione? Ah sì, guarda, proprio pochi minuti prima di iniziare questa intervista abbiamo fatto già il nostro briefing mattutino con il team in presenza da Dubai, perché abbiamo appunto una squadra in loco e una squadra ovviamente da remoto e oggi, come giornata di apertura, ci sarà, diciamo, soltanto una giornata di plenaria, quindi di inizio dei lavori. Mentre, cosa ci aspettiamo? Noi, come abbiamo riassunto un po' nel nostro primo bollettino Buongiorno da Dubai, abbiamo portato un recap di tre temi fondamentali. Intanto, quest'anno è l'anno del Global Stock Take, cioè la prima autoanalisi rispetto ai compiti a casa che i 195 governi sono stati chiamati a fare rispetto alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti. Quindi è la prima revisione per vedere un po' a che punto siamo. E già rispetto alla prima valutazione non siamo messi benissimo, cioè questi compiti non stanno procedendo nel modo giusto. Poi magari entriamo nel merito. L'altro tema fondamentale riguarda proprio il fondo Lost and Damage, Perdite e Danni, che è stato definito uno dei successi della COP27 di Sharmesheik, però da quest'anno dobbiamo capire come questo fondo che serve principalmente a sostenere i paesi maggiormente colpiti dalla crisi climatica e anche quelli meno responsabili di questo surriscaldamento globale, serve a capire come verrà riempito in termini concreti rispetto al budget e ai soldi e anche le regole di erogazione di questi soldi del fondo Perdite e Danni. Quindi soldi più regole. E poi ovviamente tutto ciò che ruota rispetto all'ambizione della finanza per il clima, quindi mitigazione e anche adattamento è come dire sempre un tema che di cop in cop deve essere visto e visionato. Sicuramente il fatto che in termini di NDC, quindi contributi, il National Determined Contribution dei vari paesi non partiamo bene, è un punto dolente. Chiudo con una nota rispetto un po' anche alle cosiddette critiche rispetto alla presidenza di questa conferenza sul clima, che è una presidenza emiratina. L'altro tema che come Italian Climate Network ci sentiamo di portare è l'attenzione a quella che può essere una diversificazione verso una transizione. Cosa vuol dire? Che è importante riuscire a arrivare a una dismissione delle fonti fossili completa e invece con questa presidenza si rischia di diversificare molto le fonti di energia, quindi è un paese che punta molto all'innovazione tecnologica, che punta molto sulle rinnovabili, ma senza allo stesso tempo abbandonare e puntare all'abbandono del fossile. Sì, esatto, un po' quella distinzione di termini che sembra una questione semantica, ma non lo è, il face down o il face out, il diminuire l'uso di combustibili fossili, oppure puntare all'eliminazione invece, proprio superarli completamente. Quindi insomma, in termini di compiti a casa direi che ci stiamo comportando insomma come quegli studenti che non solo non li fanno, non solo non li copiano al giorno della verifica, ma anzi continuano a convincere la maestra che bisogna rimandare e analizzarli nei prossimi giorni. A livello di partecipanti e di istanze che vengono portate, quali sono qui i punti di pressione? So che insomma arriva sempre con una discreta ambizione l'Unione Europea alla COP, c'è anche però la Cina che sembra muoversi in un certo modo, anche forse dopo quella conversazione tra Xi e Biden qualche giorno fa, insomma quali sono i centri di gravità di questa COP? Ma allora, sicuramente che proprio prima che iniziassero i negoziati c'è stata diciamo molta discussione per esempio sulla sede del fondo Perdite Danni, Lost and Damage e quindi c'è stata anche una contrapposizione tra i due blocchi diciamo di mondo tra il nord globale e il sud globale e i paesi del sud globale, il G77 guidato dalla Cina diciamo, hanno spinto tantissimo perché la sede del fondo fosse una sede indipendente, invece sappiamo che la sede del fondo sarà ospitato dalla Banca Mondiale, quindi già questo non è stato un segnale ben accolto o accolto positivamente dai vari governi. L'Unione Europea ha sempre giocato invece un ruolo diciamo di ambizione rispetto anche ai piani presentati, quindi ai famosi Andy Seas e anche alle revisioni, però ecco siamo in una situazione in cui ritorno su un dato importante che prima volevo citare, che noi dobbiamo, cioè per arrivare all'obiettivo di non superare la soglia del famoso grado e mezzo entro la fine del secolo dovremmo avere una riduzione del circa il 45% delle emissioni di gas serra entro il 2030, quindi stiamo parlando da qui a sette anni, mentre quello che sta succedendo è che stiamo andando verso un aumento, un più 9% di emissioni al 2030 rispetto ai livelli del 2010, quindi cioè siamo proprio fuori rotta in questo momento e c'è il rischio forte anche da un punto di vista politico che non si riesca a mantenere il diciamo l'obiettivo del grado e mezzo come la scienza ci ha sempre giustamente indicato. Ecco questo è una cosa che non va assolutamente persa. Chiaro, nel corso quindi invece di questa COP che appunto va ad iniziare andiamo sugli aspetti diciamo più comunicativi o pratici per seguirla come possiamo fare? Chiaramente possiamo seguire Italian Climate Network, ma ci sono ad esempio delle date, dei momenti specifici o insomma tutto in divenire e di giorno in giorno si scopre cosa si discuterà? Allora ovviamente il nostro bollettino per rimanere sempre aggiornati anche sul calendario, solitamente diciamo il calendario viene un po' aggiornato di giorno in giorno e di settimana in settimana, ci saranno sicuramente delle giornate tematiche dedicate ai vari temi che sono diciamo parallele al negoziato stesso, quindi alle sale negoziali e ci saranno anche tutta una serie di cosiddetti side event, quindi eventi sempre qua di approfondimento e tematici che tutti possono seguire tramite il canale UNFCC su YouTube, quindi questi sono aperti, liberi a tutte e tutti mentre ovviamente invece per seguire i lavori bisogna essere diciamo accreditati ufficialmente tramite badge anche da remoto, non è libera. Quindi sì diciamo che noi oggi che in questa giornata di apertura di plenaria capiremo meglio anche il calendario e quindi insomma riusciremo poi a comunicarlo tempestivamente. chiaro, chiaro, perché quello è un altro elemento complicato, tutte le questioni che abbiamo raccontato qui sono complicate ma anche semplicemente capire esattamente chi dice cosa quando è un elemento da tenere d'occhio con attenzione. Allora per adesso abbiamo fatto un po' questa disamina preliminare di questa COP e magari ci sarà modo di risentirci ancora nelle prossime settimane per fare dei punti intermedio rispetto alla situazione ma intanto grazie mille davvero Mari Rosa Iannelli, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi. Ci prendiamo adesso un brevissimo momento di pausa, ritorniamo tra poco con altre notizie sul tema.